ciao a tutti ragazzi sono fabio e il video che vi porto oggi potrebbe interessare ad alcuni di voi appunto come da titolo black ops 4 o battlefield 5 inizio subito dicendo che secondo me paragonare così due titoli è di per sé un errore è vero che negli ultimi anni sono entrati in competizione fra loro neanche è vero che comunque nonostante facciano parte della stessa categoria fps sparatutto si tratta comunque di due titoli completamente diversi e sarebbe banale valutare due titoli semplicemente sulla base di un singolo criterio come a dire a qual è quello più bello graficamente in realtà se qualcuno di voi avrebbe dato un'occhiata un buon giro la risposta a tale domanda penso sia riuscita a darsela io posso dirvi fin da subito che sia black ops 4 che battlefield 5 sono due titoli completamente diversi e che meritano di gran lunga di essere giocati sicuramente entrambi è anche ovvio che ognuno di noi può prediligere un titolo ad un altro nel frattempo che scorrono le immagini del gameplay vi do quelle che sono le mie personalissime impressioni dei due titoli visto che ho preferito prenderli entrambi e giocarli e che dire su black ops 4 quest'ultimo titolo di activision sembra secondo me aver portato quella ventata d'aria fresca che mancava ormai da diversi da diversi capitoli e subito la prima cosa che diciamo ho potuto notare è stata quella della mancanza del super salto presente su black ops 3 e quindi questa decisione da parte dei programmatori di fare diciamo così questo questo passo indietro secondo me è stata una scelta azzeccata e secondo me rende anche la giocabilità del titolo stesso molto ma molto più più godibile e anche l'ambientazione stessa è stata rivista in quando diciamo non è più così moderno come prima ma nonostante tutto l'ambientazione rimane comunque molto godibile molto moderna e secondo me nelle linee generali molto ma molto interessante per quanto riguarda il comparto grafico onestamente il gioco non è affatto male si presenta però forse personalmente mi aspettavo qualcosina in più e la prima cosa che ho visto è che alcune mappe sono fatte nettamente meglio rispetto ad altre ma da questo punto di vista si può sicuramente migliorare ma a parte questo il gioco comunque è molto molto volibile e sicuramente l'aggiunta futura di dlc andranno ad arricchire un titolo che per la prima volta non presenta la campagna in single player ma lascia spazio a piccole introduzioni addestramenti dei vari personaggi presenti presenti nel gioco più che mai questo titolo sembra puntare sul gameplay online con l'introduzione della nuova modalità blackout la modalità baltar royal del gioco presenta una mappa decisamente estesa così vasta con centinaia di giocatori presenti per ogni sessione è una mappa che va restringendo si può trascorrere del tempo e dalle prime impressioni dalle prime partite che ho potuto fare diciamo che ho trovato un'esperienza di gioco decisamente piacevole è molto meno frenetica rispetto alle altre modalità presenti sia in questo titolo che nei capitoli precedenti della della saga come per i capitoli precedenti anche questo titolo presenta altre modalità come il decime cia squadra e l'uccisione confermata la modalità veterano o la modalità tanto giocata come come la zombie e onestamente non l'ho giocata però dicono che è bella la proverò un'altra cosa che ho notato le mappe del multiplayer per quando non siano grandissime come come tutti con lo fidu diciamo questo di questo titolo lo trovate particolarmente più grandi rispetto ai capitoli precedenti e contengono anche diversi punti dove il futuro del gioco può svolgersi e questo secondo me è una cosa decisamente interessante perché rispetto ai capitoli precedenti mentre magari le azioni del gioco accadevano solo esclusivamente in un singolo punto questa volta il futuro del gioco le azioni importanti non si decidono decisamente su quella diciamo su quella zona della mappa ma abbiamo diversi punti dove poter agire dove poter diciamo fare i nostri scontri diretti con l'avversario battlefield 5 ragazzi cosa dire epico stupendo fantastico cercherò di stringere un attimino perché capisco che mi sto dilungando un po troppo con il video e non non vorrei che non me ne vorrebbero chi è chi è amante di battlefield 5 ma cosa dire su sto gioco ragazzi bello stupendo fantastico un titolo che racconta la seconda guerra mondiale o quantomeno racconta degli avvenimenti appunto accaduti in in quell'epoca per chi è amante del genere di questo di questo diciamo evento storico non può che non apprezzare sicuramente questo titolo per quanto riguarda il combattro grafico ragazzi veramente da primi della classe tutto stupendo e cosa dire è anche uno dei primi giochi che sta supportando il retracing godibile da chi ha una rtx nuova piccola cosa che ho notato io giocando fin da subito che le mappe tra i multiplayer single player sono effettivamente diverse però vi garantisco sempre da prima classe anche questo titolo sembra andare molto su multiplayer e le modalità presenti sono in pratica le stesse di battlefield 1 però questa volta sembra che più che mai sia importante giocare diciamo con degli amici veri in quanto non so giocando con gli amici veri diciamo il meccanismo del gioco ha più senso rispetto a quando si gioca da soli anche perché hanno aggiunto qualcosa in più come come ad esempio il capogruppo che può dare ordini ai vari giocatori e se questi eseguono diciamo questi ordini avrei diritto oltre a più punteggi puoi sbloccare nuovi potenziamenti e robe varie personalmente trovo sì bello l'online però a me stanca a me stanca perché non so è come se fosse troppo un po pesante troppo guerra mondiale troppo antichità però sono questi gusti personali che a me il genere sicuramente non può farne a me va in conclusione cosa posso dirvi ragazzi entrambi i titoli sono davvero speciali e meritano sicuramente di essere giocati entrambi io personalmente graficamente preferisco battlefield a black ops e la campagna è il motivo per la quale mi tiene incollato a giocare con battlefield i5 per quanto riguarda il combato online invece prediligo black ops 4 in quanto non lo so io mi trovo meglio mi trovo meglio con quest'ultimo invece voi ragazzi cosa piace di più se volete fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto un pollice in su se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere aggiornati al prossimo video ciao